Benvenuti. Mi sentite, sì? Grazie mille. Io sono Cristina Toscano, faccio parte del team che gestisce il programma di Capacity Building Riprogettiamo il Futuro di Fondazione Cariplo. Siamo al nostro nono appuntamento con me c'è Viviana Bassan. Ciao Viviana. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la generosità con cui hanno anche loro partecipato al nostro invito, al nostro percorso Luca Gori e Antonio Fici. Come sempre avete la chat, grazie se in chat ci dite da dove siete collegati e quale organizzazione rappresentate. Io vi ricordo soltanto alcuni dei numeri di questa nostra esperienza insieme. Siamo già arrivati a più di 1200 persone che hanno partecipato ai nostri webinar. Abbiamo nella newsletter che vi sta mandando tutta una serie di comunicazioni riguardanti il programma più di 2000 persone. Questo dall'inizio dei nostri programmi di Capacity Building. Diciamo che da marzo sono più di 700 le persone attive sulla piattaforma che stanno seguendo i corsi. Quindi è un numero che riteniamo molto molto interessante e al quale vogliamo continuare a rispondere con contenuti di qualità. Sono 18 i videocorsi ormai che potete trovare sulla piattaforma. Quattro le tematiche, quindi progettazione digitale e fundraising, normative, quello che affrontiamo oggi e poi la sezione in dialogo con Fondazione Cariplo. Inoltre trovate quattro focus, quindi degli approfondimenti tematici e andremo poi a chiudere con degli approfondimenti sul tema delle strategie, dell'ecosistema dell'innovazione sociale e l'agenda 2030, quindi elementi di prospettiva. Lascio la parola a Flaviano che ci accompagna in questo percorso di stasera. Grazie, grazie a te Cristina. Direi cominciamo subito anche perché è un webinar che è dedicato alla riforma del terzo settore, in particolare alle qualifiche e forme giuridiche che la connotano, a tutto il tema della fiscalità, incentivi. Non è che ha bisogno di molte presentazioni perché fra una cosa e l'altra, se non faccio male i conti, sono più di cinque anni ormai che siamo dentro questo percorso di riforma che riguarda appunto le organizzazioni di terzo settore. Poi abbiamo davvero due super ospiti oggi come Antonio Ficci e Luca Gori che avranno modo di entrare nel merito anche di alcuni degli aspetti che hanno trattato nel loro videocorso. Per cui io darei subito la parola al nostro sondaggio. Sapete che, come dire, almeno per chi ha già partecipato ai nostri webinar, visto che questo nono peraltro, ma lo dico anche per chi si fosse collegato per la prima volta, prima di iniziare facciamo qualche domanda a voi, a voi partecipanti, per capire insomma rispetto al tema che aria tira nelle vostre organizzazioni. Per cui chiederei alla regia di far partire, eccole qui le domande, sono domande piuttosto semplici, diciamo, risposta secca. Sei a conoscenza la prima domanda delle principali qualifiche giuridiche introdotte dalla riforma, qualifiche forme giuridiche, cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire le grandi qualifiche introdotte dalla riforma ente di terzo settore, imprese sociale, però sappiamo bene che ci portiamo dietro anche nella riforma di terzo settore, anche delle forme giuridiche preesistenti, cioè il fatto di essere un'associazione di promozione sociale, un'organizzazione di volontariato, una fondazione, fa la differenza, può fare la differenza anche nel modo in cui si diventa poi parte del terzo settore, come ente di terzo settore ed eventualmente come imprese sociale. Quindi in qualche modo, no, qual è il vostro livello di conoscenza? Se conoscete, se siete già, vi siete già attivati in qualche modo per poter entrare a far parte del novelo del terzo settore oppure se avete conoscenze ancora frammentate. La seconda domanda per la vostra organizzazione, quanto sono rilevanti le attività di adeguamento al nuovo assetto della normativa? Diciamo, no, sappiamo che molti soggetti non profit che sono stati chiamati a decidere se far parte del terzo settore hanno dovuto affrontare tutta una serie di passaggi anche dal punto di vista normativo, giuridico e quant'altro. Anche qui una vostra risposta su come stanno andando le cose. E poi vi facciamo delle domande così più di carattere generale, diciamo, quasi di tipo strategico mi verrebbe da dire. La terza, vedete, se dovreste fare un bilancio della riforma del terzo settore finora, boh, prevalgono le opportunità, prevalgono gli aspetti burocratici, è difficile fare un bilancio? E in generale poi vi chiediamo anche quali sono le misure promozionali a favore degli enti del terzo settore introdotte alla riforma. Se in qualche modo le conoscete, se state già attuando oppure in qualche modo non le conoscete, non le conoscete solo parzialmente. Quindi vedete un mix di domande che ha a che fare sia con aspetti più di natura tecnico-applicativa, sia con aspetti di natura strategica. Mentre aspettiamo le vostre risposte prima di dare la parola ai nostri relatori, vi ricordo anch'io che si può utilizzare appunto il comando domande e risposte, dove è possibile fare le vostre domande che cercheremo di proporre poi ai nostri, vedremo di riproporre, diciamo, ai nostri relatori nella parte finale del webinar, per quanto sarà possibile anche compatibilmente con i tempi. Una piccola indicazione, se volete, cerchiamo di approcciare questo webinar, i contenuti di questo webinar, più in chiave strategica, più che di question time specialistico. Ecco, quindi per cui se avete anche domande puntuali, tanto per capirci, noi le accettiamo, ci mancherebbe altro. Però diciamo che il progetto che vorremmo mantenere dentro il webinar e anche dentro le video lezioni che sono state caricate nella piattaforma, è più quello di affrontare tutte queste questioni anche per sostenere lo sviluppo strategico delle vostre organizzazioni. Perché il percorso che stiamo portando avanti, che sta portando avanti Cristina, tutto il suo team, è di capacity building, quindi di capacitazione anche in senso strategico e non solo strettamente gestionale e operativo delle organizzazioni. In qualche modo privilegiate, se volete, delle domande più di carattere, come dire, non so, generale di orientamento rispetto alla normativa, piuttosto che dire al comma 4 dell'articolo X, si dice questa cosa, ma come perché quella, diciamo, forse non è neanche il contesto giusto, non abbiamo neanche forse il tempo per entrare nel merito di tutte queste cose qui. Invece, su domande, come dire, come approcciare determinate disposizioni di legge rispetto alla loro applicazione, diciamo, rispetto a quella che è la vostra realtà, settore di attività, caratteristiche organizzative della vostra, appunto della vostra organizzazione, è quello ancora più volentieri, mettiamola così. Tutto questo anche serviva anche per raccogliere i risultati, diciamo, del sondaggio, serve fare riempimento, riempitivo, diciamo, per dare la parola ai nostri relatori, ma credo che possiamo vedere anche un po' di risultati del sondaggio, siamo già un'ottantina di persone più o meno collegate, quindi vediamo un po' i risultati del sondaggio, sono curioso anch'io, ci sono sempre, almeno per me, anche negli altri, eccoli qua, negli altri webinar c'erano risposte, diciamo, interessanti, invito anche per quanto possibile i nostri relatori a dare un'occhiata, diciamo, anche ai risultati, diciamo. Ok, vediamo poi la prima domanda, se la conoscenza è principale delle qualifiche giuridiche introdotte da riforma, diciamo che prevale, come dire, una conoscenza anche consapevole delle implicazioni che ci sono dal punto di vista anche organizzativo, di riorganizzazione interna, anche se c'è una componente, diciamo, non residuale, il 22% che dice no, non abbiamo conoscenze ancora molto frammentate, quindi c'è una parte dei nostri partecipanti che in qualche modo è consapevole delle implicazioni, qualcuno le sta già mettendo in atto, però c'è anche una componente che ancora un po' brancola nel buio, diciamo, o non ha ancora le conoscenze necessarie per capire cosa cambia per la propria organizzazione. Seconda domanda, il risultato della seconda domanda, per la tua organizzazione, quanto sono rilevanti le attività di adeguamento, quanto è costato, costato in termini di investimenti, la compliance, cioè l'adeguamento alle norme della riforma, vedete che per la maggior parte, per il 50%, sì, ci sono stati dei cambiamenti, ma più o meno non sono stravolgimenti, l'assetto sarà più o meno simile rispetto al passato. D'altro canto, però, è interessante che per quasi un 24%, quasi un quarto del nostro campione di partecipanti, invece, i cambiamenti sono stati rilevanti in qualche modo, quindi la riforma ha impattato profondamente anche sugli assetti organizzativi, giuridici, forse anche sulle scelte strategiche e così via. E poi vedete al contrario, vedete come le situazioni sono veramente molto diverse, c'è comunque un 22%, che non è poco, dice, si è trattato sostanzialmente in qualche dettaglio, un piccolo lifting a quello che siamo e che facciamo, diciamo, niente di particolarmente stravolgente. E poi bellissime le risposte, beh, è fantastico, diciamo, le risposte alla terza domanda veramente interessanti, no? Proprio, c'è veramente, c'è di tutto sotto il sole, per quanto riguarda la riforma del terzo settore. Perché vedete che proprio la torta viene spartita quasi in tre parti uguali, no? C'è quasi un 30% che dice, wow, prevalgono, no? Questa riforma genera opportunità, soprattutto opportunità. Per, come dire, un'altra, comunque una componente comunque importante, anche prevalente, no? In termini assoluti, il 36% dice, prevale comunque un certo carico burocratico nel gestire, no? Tutti gli adempimenti della riforma e per qualcuno è difficile fare un bilancio, no? Quasi un poco più di un terzo è difficile fare un bilancio. Invece, ecco, l'ultima domanda, e poi cominciamo a dare la parola ai nostri relatori, ecco, sulle misure promozionali, diciamo che c'è margine, c'è margine per fare attività di informazione, di conoscenza, di approfondimento. Nei giorni scorsi ne parlavamo anche, non so se ha voglia poi di citarlo anche con con Luc Gori, anche come tutti gli incentivi, non sono solo incentivi contenuti nella legge di riforma nazionale, ma ci sono sempre più ormai incentivi e supporti anche locali, regionali. In qualche modo, è un quadro che va ricostruito anche con una certa, con una certa pazienza, mi vorrebbe dire, no? Per cercare di trovare delle opportunità, degli incentivi, dei supporti allo sviluppo del terzo settore, grazie al fatto che la riforma entra a regime. Quindi questi sono poi i risultati del nostro sondaggio, interessante, vi ringrazio perché ci date sempre comunque degli stimoli importanti. Diamo subito la parola quindi al nostro relatore, comincerei forse con Antonio Fici, che in qualche modo nel suo videocorso ha fatto soprattutto una lezione, come dire, di natura introduttiva sostanzialmente, di che cos'è questa riforma, quali aspetti tocca, diciamo, cosa cambia anche per gli assetti in senso giuridico, diciamo, del terzo settore, in particolare con la proposta della riforma, dell'introduzione, e soprattutto della qualifica di ente di terzo settore. Ecco, qui lascerei quindi la parola a te, Antonio, per introdurre un po' dei temi che hai trattato nel tuo videocorso, poi man mano vedremo anche di raccogliere domande, questioni che possono approfondire, diciamo, il quadro generale che ti appresti a tratteggiare. Grazie. Grazie, no, grazie a voi dell'invito, è interessante questo format del sondaggio, veramente molto interessante, quindi mi complimento con chi lo ha ideato. Ora il problema è che io devo dire delle cose, ho visto il sondaggio, e non posso omettere di rispondere, soprattutto di cercare di cambiare l'opinione, provare, nel senso, alla chi ha risposto in maniera, diciamo, un po' pessimistica alla domanda numero tre, cioè che non cambia niente, che la riforma... Ma... E poi anche il discorso sulla opportunità o nuovi adempimenti, più burocrazia ed altro. Io però sono un giurista, anche accademico, ma non voglio né rispondere con citando norme, né con le teorie, ma cerco di dare un po' una... un'orienta riguardo a quelli che sono i fatti, quello che sta accadendo davvero, che ha naturalmente luce ed ombre, presenta naturalmente luci ed ombre, tutte le riforme complesse, come questa, tutte le riforme di sistema, qui stiamo parlando di organizzare la vita, l'esistenza, e possibilmente anche lo sviluppo di un complesso insieme di organizzazioni. Innanzitutto si è creato quell'insieme che prima non c'era. Devo dire che questo è un aspetto che già anche i critici della riforma dovrebbero in qualche modo esaltare. Cioè il fatto di aver creato l'insieme è di per sé un beneficio. Io questo lo scrissi all'indomani della legge, ma è stato confermato. Cioè, è vero che durante il Covid inizialmente nelle misure di sostegno alle organizzazioni, nella pandemia, non sono un appassionato di questa legislazione, quindi non sono tecnico nell'uso della denominazione di queste varie leggi di sostegno, ristori, sostegno e tutto, gli enti del terzo settore inizialmente furono dimenticati, vi ricordate? Però poi, quando qualcuno disse vi siete dimenticati gli enti del terzo settore, introdurli fu molto semplice, perché c'era già una categoria normativa ad hoc, costituita nel 2017, che ha consentito a chi doveva fare pressioni politiche di poter semplicemente menzionare il terzo settore senza dover spiegare a chi si faceva riferimento. Volontariato, promozione sociale, associazionismo, e tutto questo privato sociale, no, erano superati dal terzo settore di cui ha il codice del terzo settore. Ed è stato facile per il governo introdurre, seppur in corsa, seppur tardivamente, in maniera come sempre colpevole in questi casi, perché voglio dire, le organizzazioni che per prima devi sostenere sono le organizzazioni come quelle del terzo settore che godono di rilevanza costituzionale rispetto a quelle che non ce ne hanno. Quindi, al di là di questo discorso della colpa, è stato facile per il governo introdurre la misura anche a segno degli enti del terzo settore, inserendo in qualche parte delle varie misure anche gli enti del terzo settore. Quindi, questo già di per sé è un fattore rilevante, perché altrimenti o le ODV si dovevano muovere in un senso, le cooperative sociali in un altro senso, con le proprie rappresentanze, e così via. Oppure non si dimenticava qualcuno. Oggi, con enti del terzo settore, ecco, oltre a quello che diceva Flaviano, di cui forse magari parlare Luca dopo, il fatto che anche a livello locale c'è già la categoria pronta. Quindi, semmai chi rischia oggi è chi non è nella categoria, che potrebbe, tra virgolette, essendo non compreso formalmente in quella categoria, non avvantaggiato come quelli che rientrano nella categoria. Quindi, chi si trova dentro la categoria del terzo settore, l'insieme del terzo settore, indubbiamente, già solo per questo presenta il vantaggio, ci si poteva anche fermare lì. Quindi, detto questo, su cui vi invito a riflettere, perché magari ciascuno di voi è stato toccato da questa esperienza particolare di ricevere un beneficio in quanto ente del terzo settore, non in quanto cooperativa sociale o in quanto dv o in quanto ente non profit, ma perché all'improvviso si è ritrovato ricondotto in questa categoria. Per rivalutare, ripensare il giudizio su una riforma che comunque, adesso vi dico, poi, naturalmente necessiterà di miglioramenti come tutte le riforme di sistema di questa natura. Ecco, al di là di questo, poi, la mia percezione che è basata non sulle norme ma sui dati è una percezione diversa di quella che è la realtà. Io sto preparando, preparato uno studio di caso condotto su una regione italiana dove ho analizzato nel dettaglio 100 e manualmente perché non ho né algoritmi né sistemi informatici quindi con un piccolissimo margine d'errore ho preso 150 domande di iscrizione a RUNS di nuovi soggetti cioè non i soggetti che stanno trasmigrando a registri di ODV e APS i vecchi registri delle leggi 266 e 383 né delle cooperative sociali e delle imprese sociali poi ne parlerò ma di soggetti che si affacciano per la prima volta al terzo settore quindi che hanno trovato attraente questo terzo settore e allora se guardiamo questa capacità di attrazione del terzo settore ci accorgiamo che se prendiamo il RUNS cioè il registro unico nazionale del terzo settore che è un diciamo si può esaminare ancora in forma provvisoria nel sito del ministero e si può scaricare anche una lista di enti che si sono iscritti a partire dal 24 novembre osserviamo che in media sono iscritti 500 enti al mese sulla base di un numero più che doppio di domande ogni mese circa 1100 1200 domande e ogni mese vengono iscritti 500 enti del terzo settore che prima non erano del terzo settore quindi stiamo parlando di 6.000 all'anno peraltro non sembra che tutti stavano lì ad aspettare cioè le domande continuano a essere il trend è sempre quello per cui è molto interessante il fatto che questo terzo settore sia attraendo soggetti nuovi che stanno facendo domanda di entrare nel terzo settore dopodiché se esaminiamo questi soggetti nel dettaglio io l'ho fatto appunto con queste 150 domande ci accorgiamo che i soggetti che entrano non sono soggetti enti di grandi dimensioni con grandi patrimoni con grandi attività commerciali ed altro ma sono associazioni culturali per lo più e quindi di modeste dimensioni e tra cui metto anche le bande musicali che sono diventate il fenomeno un po' del nuovo terzo settore stanno entrando in massa vi garantisco entrate annui pari a 5.000 10.000 euro questa è la media dei 150 con pochissimi lavoratori mezzo lavoratore per ente parliamo di un'ottantina di lavoratori dipendenti o parasubordinati subordinati o parasubordinati in 150 enti quindi sicuramente enti di modestissime dimensioni pieni di soci migliaia di soci con circa un terzo rispetto al numero dei soci di volontari e con pochissimi lavoratori che stanno decidendo di entrare nel rules allora o sono folli questi enti e chi li guida cioè le reti associative che stanno anche promuovendo la loro entrata perché tendenzialmente sono enti che appartengono a soggetti di secondo livello che stanno guidando questo ingresso o sono folli loro stanno sbagliando oppure c'è qualcosa di sbagliato nella percezione della riforma e nel come si racconta la riforma io potrò anche provare a dare diversi diversi esempi di questa cattiva percezione o come le cose si possono raccontare in maniera diversa a seconda di chi racconta il medesimo il medesimo concetto quindi soggetti piccolissimi in cui la burocrazia in cui la burocrazia non sta costando guardate la stessa iscrizione a Runes l'iscrizione a Runes prima bisognava andare nell'ufficio competente regionale dove spesso c'era anche un registro cartaceo portandosi documenti e quasi chiedendo l'iscrizione a Runes che aveva un meccanismo quasi concessorio perché era talmente complicata la procedura gli atti e anche la normativa legata ad aspetti regionali dove tu qualche cosa lo potevi mettere nello statuto in Emilia Romagna ma non lo potevi mettere in Toscana che veramente era complicato oggi invece si dà in carico a una rete associativa che in 40-45 minuti e qualcuno si lamenta pure di questo tempo iscrive un ente a Runes cioè iscrive un ente aderente a Runes perché si trasferiscono i dati allo statuto all'atto costitutivo a volte credono anche gli ultimi bilanci eccetera e un po' le cariche associative un po' di informazioni riguardo agli amministratori della rete associativa e il funzionario della rete associativa o il volontario della rete associativa inserisce i dati nel computer e li inserisce per la ODV o l'APS o l'ente del terzo settore che ha sede in Sicilia come per quello che ha sede in Alto Adige senza dover il funzionario o il volontario della rete prendere il treno e talfetto ora che questa non sia una semplificazione io veramente al di là della difficoltà del registro telematico iniziale ci sono problemi banali che si potrebbero risolvere come ad esempio occorre lo speed del presidente rappresentante legale non è possibile dare una delega a un commercialista risolvibile o in via interpretativa o in via normativa ma prima altro che dare lo speed bisognava che il presidente andasse materialmente nell'ufficio a presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione con uno statuto peraltro che oggi sappiamo come deve essere grosso modo fatto ma prima dipendeva da tante variabili dall'interpretazione di una normativa un po' general elastica e quindi come tale suscettibile di varie interpretazioni alla normativa regionale l'altro elemento che poi esaminando queste 150 domande quindi 150 statuti degli enti emerge come è un piccolissimo campione però rappresentativo emerge come nel 33 40 un terzo 40 per cento dei casi gli statuti sono scritti bene e gli enti vengono iscritti molto rapidamente cioè l'ufficio recepisce prende i dati guarda lo statuto e iscrive l'ente non è un dialogo volto a rimediare alla carenza documentale o alla carenza dei requisiti statutari ma fatta la domanda 40 45 giorni l'ente è iscritto perché tutto è in regola i documenti sono stati regolarmente depositati e lo statuto va bene quindi anche dal punto di vista degli statuti non c'è stata di fatto almeno per la mia esperienza questa grande difficoltà è chiaro che ci sono soprattutto in alcune regioni perché il registro è unico però poi materialmente ciascun ufficio regionale del RUNS istruisce le domande naturalmente qui c'è l'elemento umano perché tutte le normative vanno interpretate qualcuno la pensa in maniera più libera qualcuno in maniera più rigida perché magari è orientato dalla vecchia normativa regionale o perché ha letto e interpretato male da circolare ministeriale o perché non comprende bene il rapporto tra le fonti questo c'è come c'è nel registro delle imprese tra i vari conservatori delle varie dei vari uffici del registro delle imprese quindi questo è normale che possa accadere in futuro accadrà sempre meno però rispetto al passato questo elemento mi sembra evidente altro aspetto faccio un esempio per tutti che ne so l'altra cosa a livello ad esempio di 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 norme di adempimenti beh un adempimento enorme devo fare il bilancio no devo fare il bilancio d'esercizio grande che addirittura nella percezione queste settimane però scusate ti interrompo eh sì perché deve essere depositato entro il 30 giugno a Runes no perché lo è già e quindi deve essere approvato in tempo utile per essere depositato a Runes entro il 30 entro il 30 giugno quindi devo fare il bilancio beh innanzitutto un bilancio un ente un bilancio doveva sempre fare quindi l'articolo 13 del codice del terzo settore quando prevede il bilancio a carico degli enti del terzo settore sembra un onere di grande ma in realtà era un onere che già c'era poi che gli enti lo facevano non lo facevano lo depositavano non lo depositavano nei vecchi registri questo è un altro aspetto ma non che non ci fosse un onere di bilancio per tutti gli enti inclusi naturalmente gli enti del terzo settore dopodiché mentre in passato come si doveva fare il bilancio era lasciato all'iniziativa degli enti nonostante vi fossero dei tentativi diciamo di soft law dell'agenzia del terzo settore delle modelli che giravano eccetera oggi come si deve fare il bilancio è chiaro ed evidente perché c'è un decreto ministeriale che fissa proprio la modulistica per il bilancio non delle linee guida orientative ma dice il bilancio deve fare così e deve contenere queste voci allora questo si può vedere come una gabbia e magari lo è per alcuni quelli che lo vorrebbero fare o come un beneficio perché l'ente del terzo settore è piccolo che ha 10.000 euro 20.000 euro da rendi contare quindi prende quello schema di bilancio senza chiedere consulenze a nessuno mette le voci e ha chiuso il discorso e allora le cose bisogna capire come le si raccontano e con quale da quale prospettiva quindi questo è soltanto per cercare poi magari Luca parlà delle opportunità io qui non lo faccio di natura fiscale rapporti con gli enti pubblici liberalità indiretta e tutto questo non lo dico io parlo soltanto cerco di smontare il discorso degli adempimenti e della burocrazia detto questo poi è chiaro che quando insomma se noi andiamo a un ristorante e c'è un unico piatto nel menu voglio dire non perdiamo molto tempo a individuare cosa scegliere perché o ci accontentiamo di quel piatto o usciamo dal ristorante non è che c'è possibilità di negoziare se noi andiamo invece a un ristorante dove abbiamo sette piatti in un menu una lista con sette possibilità è probabile che sarà capitato a tutti e magari se sei in gruppo si discute anche quale piatto scegliere ecco la verità è proprio questa la riforma arricchito le possibilità di scelta e arricchendo le possibilità le varie opzioni adesso dirò quali sono le prime opzioni da affrontare che poi riguarda una domanda riguarda anche un punto che ho toccato nel video di cui adesso poi non ho parlato seguendo esattamente quello schema ma sarebbe stato stupido perché si può quel video vedere ecco la prima opzione è quella di capire come entrare nel terzo settore cioè se entrare nel terzo settore dalla porta delle organizzazioni di volontà se entrare nel terzo settore dalla porta dell'associazione di promozione sociale se entrare nella porta degli altri enti del terzo settore dell'impresa sociale e così via no? e ciascun ente è posto di fronte a questa scelta ora questa scelta può disorientare ma a mio avviso è meglio averla la scelta piuttosto che averne una sola quindi il fatto di aver moltiplicato le scelte poi dirò anche che poi insomma non sono scelte tragiche e definitive sono scelte irreversibili e adattabili anche all'andamento dell'organizzazione nel corso del tempo e può essere visto come un fattore di disorientamento di complessità ma in realtà è un fattore di arricchimento che cosa ce lo dimostra questo se vediamo i primi dati sull'escrizione a rules cioè i primi 3.300 iscritti a livello nazionale parlo adesso quindi in quella lista di iscritti che si può consultare dal sito ministeriale sono 3.300 3.400 poi è difficile perché devi fare dei calcoli a mano ma insomma vabbè lasciamo stare più o meno quelli sono gli iscritti ecco di quei 3.300 quasi il 55 60% sono associazioni di promozione sociale quindi hanno scelto di entrare nel terzo settore come associazioni di promozione sociale che vuol dire quando si sono iscritti a RUNS hanno chiesto di essere iscritti nella sezione associazioni di promozione sociale avranno valutato avranno valutato quali delle sette sezioni quali delle sette porte di ingresso nel mio esempio e hanno scelto la porta delle APS perché era quella che magari conteneva dei vincoli ma anche maggiori opportunità oppure si adeguava meglio al loro modo di operare per esempio era un operare prevalentemente mutualistico cioè in favore dei propri soci svolgevano attività culturali educative formativa in favore dei soci hanno scelto il modello di riferimento che effettivamente è correttamente anche per ragioni fiscali è quello delle associazioni di promozione sociale un 18% 20% sono organizzazioni di volontariato quindi sono enti che hanno scelto di entrare nel terzo settore come organizzazioni di volontariato sicuramente meno che in passato dove le organizzazioni di volontariato erano 55-60% del totale e questo ci fa capire come il moltiplicarsi di scelte significativo perché una bella fetta di enti veramente tanti uno su quattro ha scelto di entrare nella categoria indistinta e generale generica degli enti del terzo settore cioè quella categoria la settima sezione residuale che si pensava una sezione in cui pochi si sarebbero iscritti in realtà è la seconda più popolata del RUNS lasciando da parte le cooperative sociali e le imprese sociali che di cui magari dirò dopo in un secondo giro vediamo che fanno un po' storie a sé qui ecco altri enti del terzo settore perché perché una categoria diciamo con meno vincoli se per esempio un'associazione ha due associati non si potrebbe scrivere né come ODIV né come APS perché gli associati sono sette il minimo lì allora si scrive come altri enti del terzo settore le fondazioni non hanno altra via che scriversi o nella categoria enti filantropici se fanno veramente un'attività filantropica o nella categoria altri enti del terzo settore quindi quella categoria che era pensata come marginale residuale veramente dei disperati che non sapevano che cosa scegliere è stata preferita da moltissimi enti questo è veramente significativo a livello di valutazione dell'impatto concreto della riforma sul terzo settore dopodiché adesso magari mi fermo un attimo poi se c'è una seconda possibilità aggiungo qualche cosa dopodiché ci sono anche le ombre perché vi ho detto che le bande musicali le associazioni culturali stanno molto gradendo questa riforma a mio avviso anche i piccolissimi enti soprattutto quelli organizzati in una rete ma tendenzialmente in questo mondo sono organizzati in una rete questi soggetti che operano nell'ambito dell'arte teatrale della cultura e così via però manca lo sport direttantistico cioè in 150 domande specificamente da me esaminate due terzi dichiarano di svolgere attività lettere D e D culturali o ricreative mentre solo 4 su 150 dichiarano di svolgere attività di sport direttantistico e poi non sappiamo se sport direttantistico nel senso del coni e lo sport direttantistico in senso generico se guardiamo il RUNS 3.300 enti ce ne saranno una decina che hanno nella propria denominazione sportiva direttantistica e quindi appartengono al mondo dello sport direttantistico delle attività quindi le ombre ci sono anche se sono ombre che non la legislazione sul terzo settore in sé ma il raccordo tra normativa soggettiva sul terzo settore degli enti e normativa sui campi di attività in questo caso sullo sport direttantistico e mi fermo qui poi magari se c'è tempo grazie grazie Antonio anche per questo spaccato interessante anche del terzo settore come si sta in qualche modo costruendo dentro registro unico interessante questa cosa qui l'immagine che ne esce anche a partire da chi si sta iscrivendo al registro in particolare come dire i nuovi arrivati diciamo non solo i trasmigrati da altri registri sì sì se posso aggiungere ho dimenticato di dire quando ho detto le scelte non sono irreversibili ho dimenticato di dire che quando si sceglie una porta di ingresso non è che bisogna rimanere in quella sezione in casellati perché si possono cambiare si può cambiare la qualifica quindi un ente che è entrato e si era qualificato come ODV perché aveva scelto una sezione ODV a un certo punto svolge attività commerciali e quindi si iscrive come impresa sociale nel registro delle imprese o viceversa oppure un ente che nasce come APS iscritto a un certo punto decide di diventare un altro ente del terzo settore perché non ha più le caratteristiche dell'APS quindi c'è anche un'elasticità cioè c'è quel fenomeno che si chiama migrazione cambio di sezione che è un'altra facoltà l'avevo dimenticato un'altra opportunità rispetto al passato dove i cambi di status erano molto molto complicati veramente mi piace grazie Antonio Antonio Fisci gli ho presentati male i nostri relatori anche adesso lo faccio per bene è avvocato e professore associato Antonio all'Università degli Studi di Roma di Tor Vergata adesso diamo la parola a Luca Gore che invece è ricercatore professore di diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa io Luca andrei avanti in questa sorta di riflessione barra presentazione in senso promozionale della riforma in qualche modo che mi sembra che tutto sommato ha introdotto anche Antonio e che in qualche modo potresti come dire sviluppare ulteriormente guardando in particolare a quelle che sono appunto anche alcune misure alcune opportunità mettiamola così che la riforma dà rispetto anche alle relazioni con altri soggetti penso al mondo della pubblica amministrazione penso anche al mondo dei soggetti privati imprese singoli cittadini per quanto riguarda anche la possibilità di dare conferire risorse agli enti agli enti di terzo settore quindi lascerei la parola a te anche qui per raccontare un pochino quelli che sono i contenuti del tuo videocorso e in generale se vuoi anche tu reagire diciamo ad alcune dei dati che abbiamo raccolto con il nostro sondaggio come meglio credi però intanto ecco ti lascio la parola diciamo così grazie anche a te per aver settato il nostro invito grazie a voi è stato un grande piacere poter interloquire lavorare con voi sviluppare come dire una linea di pensiero anche su come raccontare la riforma del terzo settore perché su questo aspetto Antonio ha molto ragione c'è anche come dire da sviluppare delle capacità narrative della riforma del terzo settore riuscire a rendere accessibili i contenuti della riforma del terzo settore ma secondo me un elemento importante su cui vorrei un po' sensibilizzare gli enti che sono presenti quest'oggi è proprio quello del perché aprire quella porta d'ingresso di cui ci parlava Antonio Fici in fondo il legislatore quando ha definito questa architettura complessiva della riforma quindi ha definito il perimetro degli enti del terzo settore ne ha definito le caratteristiche organizzative gli aspetti funzionali ha riconosciuto le diverse qualifiche degli enti del terzo settore in base alla loro vocazione al modo in cui intendono perseguire la missione che hanno che hanno prescelto il modo in cui intendono svolgere l'attività di interesse generale bene dicevo il legislatore quando ha definito tutti questi aspetti li ha definiti sostanzialmente in una ottica che è un'ottica propriamente costituzionale cioè di favorire lo svolgimento delle attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà quindi tutte quelle norme che in qualche modo come dire a volte vengono rappresentate come delle gabbie no? che limitano l'attività la libertà degli enti del terzo settore in realtà sono appunto la chiave d'accesso per poter accedere a determinate misure promozionali cioè nessuno è obbligato a diventare ente del terzo settore ma la scelta di diventare ente del terzo settore significa compiere una scelta che ha un suo rilievo costituzionale cioè di entrare all'interno di un sistema promozionale e vorrei dire anche di rapporto con la pubblica amministrazione proprio perché si ritiene che la propria attività soddissi quelle finalità civiche solidaristiche di utilità sociale e si voglia potenziare il modo in cui queste finalità sono perseguite il legislatore quindi è chiamato a definire costantemente delle misure di supporto degli enti del terzo settore perché in realtà gli enti del terzo settore quale missione quale missione svolgono all'interno del nostro ordinamento cooperano insieme alla potere pubblico alla trasformazione delle nostre comunità all'attuazione dei valori degli interessi dei principi costituzionali e quindi il predisporre delle misure promozionali è un vero e proprio vorrei dire obbligo che grava sul legislatore proprio perché come ricordava Antonio non si possono considerare questi enti equiparati ad altri enti che pur operando liberamente legittimamente all'interno dell'ordinamento in realtà scelgono di farlo al di fuori di quel perimetro degli enti del terzo settore quindi ecco io invito sempre gli enti a considerare questa dimensione regolatoria del terzo settore in questa chiave di tipo promozionale si entra nel terzo settore perché si persegue determinate finalità si svolgono determinate attività e in ragione di questo si ricevono e si è destinatari di misure promozionali che sono misure che puntano appunto a trasformare la realtà delle nostre comunità in senso auspicabilmente migliorativo queste misure promozionali è vero quello che dicevi inizialmente cioè esiste direi un sistema di misure promozionali che operano stabilmente a livello statale cioè la legge dello Stato ha definito un primo insieme di misure promozionali sostanzioso rilevante che toccano ora ne farò come dire brevemente un'elencazione molto molto semplice che toccano diversi aspetti della attività e della mission di un ente del terzo settore accanto a questo poi proprio perché come dire è stata definita una categoria di enti a livello a livello statale valevoli su tutto il territorio nazionale e si sta sviluppando come dire una legislazione regionale di supporto agli enti del terzo settore che operano su diversi territori regionali e accanto a questo si sta sviluppando delle discipline di promozione per esempio a livello locale negli enti locali nelle aziende sanitarie nei diversi enti che si occupano di integrazione sociosanitaria a livello a livello territoriale quindi possiamo dire che c'è davvero lo strumento cioè la definizione di ente del terzo settore ha offerto al diverse amministrazioni come dire quella chiave di lettura del pluralismo sociale per poter predisporre delle misure promozionali a livello a livello territoriale insomma chi segue un po' la legislazione regionale sa che le diverse regioni si stanno appunto muovendo sul versante dell'associazionismo culturale sul versante dell'associazionismo ambientale sul versante delle attività eh in campo e in campo di nel campo dell'housing sociale soprattutto un campo sociale sanitario dell'integrazione socio socio sanitario ecco quindi allora che è importante riuscire a cogliere anche questa dimensione che è una dimensione poi propria del nostro paese cioè della dimensione statale e della dimensione locale per quanto riguarda la dimensione statale ovviamente io non ho il tempo qui e non voglio sottrarre tempo eh per definire tutte le diverse misure di promozione che il legislatore ha messo ha messo in campo mi metto diciamo mi limito solo a farne un'elencazione neanche esaustiva probabilmente però come dire mettendo in luce come siano diversi anche gli strumenti che il legislatore ha deciso di mettere di mettere in campo eh il primo è quello come dire del finanziamento diretto delle attività di interesse generale cioè la legge ha istituito alcuni fondi statali che poi in parte sono amministrati dalle dalle trasferiti amministrati dalle regioni per il finanziamento delle attività di interesse generale di alcuni enti del terzo settore i famosi fondi articoli settantadue e settantatré che sono stati eh ampiamente utilizzati nel nel corso delle ultime degli ultimi anni e questa è una misura come dire di promozione perché trasferisce delle risorse dal sistema pubblico agli enti del terzo settore in funzione di accrescerne la capacità operativa di sostenerne il rafforzamento del perseguimento della della missione ci sono poi altre misure che operano invece sul piano dei rapporti con la pubblica amministrazione questo sapete che è un tema importantissimo che è un tema che ha una sua anche complessità e che sta dentro quel cappello che viene normalmente che viene così come dire definito di amministrazione condivisa come l'ha chiamato la corte costituzionale e quindi gli istituti della coprogrammazione della coprogettazione cioè l'idea per cui eh come dire la pubblica amministrazione non guardi più al terzo settore semplicemente come un soggetto a cui eh come dire dare una commessa per realizzare determinate attività che aspetterebbero all'ente pubblico ma guarda il terzo settore come protagonista per la coprogrammazione la copostruzione di specifici progetti intervento eh negli ambiti di attività di interesse generale sommando le risorse a disposizione del terzo settore e della pubblica amministrazione che è un cambio di paradigma estremamente importante e che fatica ad affermarsi che fatica ad affermarsi perché ci sono come dire resistenze nell'amministrazione resistenze nel terzo settore difficoltà di lettura sul piano sul piano europeo ma è una diversa prospettiva di svolgere la funzione amministrativa in un'ottica come dire di valorizzazione dell'apporto che gli enti del terzo settore possono possono portare realizzare ci sono poi misure come dire anche che possono apparire atipiche che sono connaturate alla storia del nostro paese penso per esempio al sistema che il codice del terzo settore ha confermato per la promozione e il sostegno dell'attività e del ruolo del volontariato all'interno degli enti del terzo settore cioè il sistema dei centri servizi per il volontariato che sono stati riformati all'interno del codice del terzo settore che rappresentano un'importante infrastruttura su base su base territoriale per il supporto dei diversi enti del terzo settore e in particolare della presenza e del ruolo dei volontari all'interno degli enti del terzo settore che hanno una funzione come dire di erogazione di servizi di diverso tipo estremamente importante finanziate con attraverso il FUN il Fondo Unico Nazionale che viene appunto alimentato dai contributi delle fondazioni d'origine d'origine bancaria c'è poi tutta la parte legata alla fiscalità diretta indiretta degli enti degli enti del terzo degli enti del terzo settore da questo punto di vista come dire il legislatore ha come dire ha ritenuto di non dover applicare agli enti del terzo settore la medesima disciplina fiscale prevista per tutti gli altri enti del che operano gli enti collettivi che operano all'interno dell'ordinamento ma prevedere una disciplina specifica che come ci ha ricordato di recente la Corte Costituzionale in una importante sentenza la 72 del 2022 parte dal riconoscimento che in realtà gli enti del terzo settore con la loro attività concorrono al finanziamento della spesa pubblica e quindi essendo essi stessi soggetti che cooperano insieme alla pubblica amministrazione per la realizzazione di servizi degli interventi che comunque il potere pubblico dovrebbe finanziare ricornendo al prelievo fiscale è ragionevole prevedere delle misure fiscali incentivanti per lo svolgimento dell'attività degli enti del terzo settore da questo punto di vista rimane ancora da definire il rapporto con l'Unione Europea soprattutto per quanto riguarda le misure di fiscalità diretta per gli enti del terzo settore e per l'impresa sociale perché come probabilmente probabilmente sapete il legislatore ha ritenuto di dover acquisire prima dell'entrata in vigore delle disposizioni prima dell'acquisizione di efficacia delle disposizioni in tema di fiscalità diretta su alcune di esse di ottenere l'autorizzazione della Commissione Europea quanto alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a livello a livello europeo andando avanti ancora in questo semplice elencazione ma penso a tutte le misure di fiscalità indiretta che riguardano gli enti del terzo settore penso alle misure che incentivano i comportamenti donativi nei confronti degli enti del terzo settore e quindi i vantaggi fiscali che sono riconosciuti a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro in natura nei confronti degli enti del terzo settore penso al grande tema della riqualificazione dei beni immobili pubblici non utilizzati per finalità istituzionali che è uno dei grandi temi su cui tanto l'amministrazione centrale quanto le amministrazioni locali si misurano perché rappresentano talora delle ferite aperte all'interno dei nostri contesti urbani e si riconosce al terzo settore un ruolo importante nella riqualificazione nella rigenerazione di questi di questi beni riconoscendo anche in questo caso per esempio con una disciplina a mio giudizio estremamente interessante come quella del social bonus un vantaggio fiscale nei confronti di chi finanzi queste di chi effettua perugazione liberale e al sostegno di queste azioni insomma come si può vedere esiste un ampio ventaglio di misure promozionali ovviamente non si tratta di misure promozionali che che sono esaurite o che sono chiuse ecco come dicevo c'è un'elaborazione a livello locale ma il legislatore è chiamato costantemente ad interrogarsi nel realizzare le politiche quale può essere il ruolo del terzo settore in quel determinato settore questo non sempre è stato fatto diceva bene Antonio talora il legislatore dimentica la presenza del terzo settore lo assimila ad altri soggetti oppure come dire non valorizza la specificamente la qualifica di ente del terzo settore usa delle qualifiche come dire trasversali fantasiose questo è uno sforzo al quale invece deve essere sempre richiamato il legislatore cioè di valorizzare quella categoria perché valorizzando quella categoria essi riescono ad ottenere risultati trasformativi sulla realtà nei diversi settori in cui il legislatore interviene un esempio importante da questo punto di vista lo abbiamo visto nei decreti legge che si sono succeduti per la gestione dell'emergenza ucraina il terzo settore è stato riconosciuto come uno dei grandi attori dell'accoglienza dei profughi dei profughi dal contesto dal contesto bellico è stato riconosciuto appunto delle misure di sostegno a quell'attività che naturalmente il terzo settore è chiamato è chiamato a svolgere quindi in termini di semplificazione delle procedure per sottoscrivere le convenzioni di finanziamento delle attività ecco questa dimensione promozionale che è il tratto tipico direi della legislazione sul terzo settore deve essere sempre approfondito anche in chiave vorrei dire politica ecco consentitemi di utilizzare un termine forse un po' de modè cioè gli enti del terzo settore devono acquisire sempre la capacità di richiamare il legislatore statale regionale o gli amministratori locali alla valorizzazione della specificità di questa esperienza nel momento in cui si trovano a compiere scelte scelte importanti riguardino esse la sanità il sociale l'ambiente la cultura la rigenerazione urbana l'housing sociale la scuola l'istruzione la lotta la povertà educativa lo sport e così via certo sì sì diciamo che scusami se ti interrompo però un punto molto importante il cratere promozionale il cratere promozionale di questa riforma dipende anche da noi da noi enti del terzo settore e mi sembra particolarmente importante il fatto che c'è come dire una partita che si gioca a livello nazionale dentro la quale ci sono anche organismi di consultazione coinvolgimento del terzo settore mi sembra interessante questa prospettiva anche locale diciamo o asi iperlocale diciamo quindi a livello regionale ma anche di municipalità di amministrazione proprio locale dove si giocano alcune partite come quella della coprogettazione ma non solo diciamo che possono trovare come dire un ambito interessante anche di sana pressione diciamo rispetto al fatto che l'ente pubblico adotti pienamente le potenzialità di questa riforma proviamo a fare un secondo round anche di approfondimento il tempo non è moltissimo però sono arrivate alcune domande che provo a porvi c'è una prima serie di domande che sono abbastanza specifiche però hanno un tratto in comune l'impresa sociale sostanzialmente quindi questo può essere un'occasione anche per Antonio diciamo per entrare nel merito anche del tema di imprese sociale come diceva prima le domande sono molto specifiche c'è quella di Cristina che dice buongiorno eravamo storicamente una SRL non profili nel 2014 ci siamo trasformati in imprese sociale e poi entri del terzo settore nel 2019 registrati alla Camera di Commercio dobbiamo fare qualcosa per entrare nel Runt o ci siamo d'ufficio e poi invece c'è un'altra domanda un'altra domanda che viene invece da una cooperativa sociale la cooperativa sociale progetto insieme onlus di diritto va bene ok è stata inserita nel Runt nel 21-3-2022 il deposito del bilancio 2021 non è ancora stato depositato al Runt può essere depositato entro il 36 o siamo in ritardo ecco ci sono come dire tutta una serie di questioni molto specifiche diciamo che però hanno un tratto comune che riguarda il tema il tema dell'impresa sociale non so se su questo Antonio ci sono altre domande ma ve le faccio dopo diciamo però se questo tema l'impresa sociale Runt eccetera veramente all'estremo provo a sintetizzare cercando anche di mantenere quella prospettiva di indagine diciamo che ci siamo posti inizialmente quindi di natura non consulenziale ma di natura proprio ricostruttiva allora io prima non ho parlato di imprese sociali e cooperative sociali perché non perché non siano enti del terzo settore perché sono una parte del terzo settore l'impresa sociale è una delle sette sottocategorie una delle sette come la vogliamo chiamare e le cooperative sociali dentro l'impresa sociale sono una componente ancora maggioritaria anche se altre forme dell'impresa sociale si stanno affermando soprattutto quella della società responsabilizzata con la qualifica di imprese sociale quindi non ne ho parlato perché mi stavo concentrando su RUNS voi mi direte perché le cooperative sociali e le cooperative sociali non stanno nel RUNS bene le imprese sociali e le cooperative sociali stanno nel RUNS ma il RUNS e gli uffici del RUNS non sono la loro principale preoccupazione non devono essere la loro principale preoccupazione le imprese sociali infatti sono un ente del terzo settore che dialoga innanzitutto e principalmente con il registro delle imprese e quindi con l'ufficio del registro delle imprese se io voglio costituire un'impresa sociale in forma di cooperativa in forma di SRL in forma di fondazione devo iscrivere il mio ente il notaio sa come si fa perché necessariamente devo passare per un notaio nella sezione imprese sociali del registro delle imprese quindi se costituisco una cooperativa sociale e automaticamente peraltro essa sarà iscritta nella sezione imprese sociali del registro delle imprese da lì in automatico i dati passeranno senza che l'ente debba fare alcunché dal registro delle imprese a RUNS se noi andiamo nel famosa lista di enti presente nel sito ministeriale del RUNS troviamo le imprese sociali ne troviamo 23.000 24.000 per adesso sono la componente principale non sarà sempre così perché poi arriveranno i trasmigranti arriveranno i nuovi eccetera ma adesso sono la componente principale perché non che 23.000 enti hanno fatto qualcosa ma perché le camere di commercio hanno portato hanno fotocopiato copia e incollato i loro dati nel RUNS e attenzione le imprese sociali non devono iscriversi nel RUNS a me è capitato in quelle 150 domande esaminate c'erano due imprese sociali che chiedevano di iscriversi nel RUNS erano i notai peraltro che avevano cercato di iscriversi nel RUNS la domanda è stata bocciata non accolta perché le imprese sociali rimangono chiamate a iscriversi nel registro delle imprese poi il fatto che i loro dati siano presenti anche nel RUNS è un altro aspetto che non tocca le imprese sociali direttamente ecco detto questo però attenzione non è che le imprese sociali e le cooperative sociali siano non interessate alla riforma non cambia niente ecco il fatto non so di chi ha scritto non cambia molto quel 30% del sondaggio forse c'erano molte cooperative sociali non è vero affatto cambia moltissimo perché le cooperative sociali e le imprese sociali oggi sono parte del terzo settore e cambia tantissimo innanzitutto perché ci sono a livello di registrazione vi ho detto sintetizzo tre cose perché vi ho detto che si iscrivono al registro delle imprese però attenzione una volta che sono iscritte anche nel RUNS per trasferimento di dati le cooperative sociali e le imprese sociali si trovano anche nel RUNS e possono trovare la loro posizione col codice fiscale fate una prova entrate nel RUNS digitate il fiscale e trovate magicamente la vostra cooperativa sociale con gli stessi dati nel registro delle imprese ma lì nel portale del RUNS la cooperativa sociale può dare delle indicazioni particolari per esempio può dare il sito internet il numero di telefono il 5 per 1000 o l'adesione alla rete associativa che non può dare nel registro delle imprese le cooperative sociali devono fare questo se vogliono diciamo dare ulteriori informazioni sul loro essere enti del terzo settore che non possono dare al registro delle imprese so che è una complicazione ma accedendo telematicamente col codice fiscale e lo speed trovate la vostra posizione questa è una prima cosa natura puramente formale secondo aspetto le imprese sociali le cooperative sociali oggi sono parte del terzo settore quindi non godono soltanto delle opportunità della legge 381 del 91 o del decreto 112 sull'impresa sociale ma anche di alcune opportunità presenti nel codice del terzo settore per esempio coprogrammazione coprogettazione ed altro riguardano tutti gli enti del terzo settore cioè l'articolo 55 non si applica soltanto a ODV e APS si applica a tutti gli enti del terzo settore quindi un SRL impresa sociale che volesse coprogrammare coprogettare con la pubblica amministrazione senza il 55 lo potrebbe fare senza mettere in mezzo qui aspetti fiscali che pure si applicano agli enti del terzo settore che hanno la natura di imprese sociali terzo aspetto questo essere parte oggi del del terzo settore più ampio rende l'impresa sociale e le cooperative sociali pone le imprese sociali e le cooperative sociali in dialogo con gli altri qualifichi con gli altri modelli di enti del terzo settore come si realizza questo dialogo vi faccio un po' di esempi una associazione di promozione sociale costituita interamente da lavoratori che non ha più volontari ma soltanto lavoratori della stessa associazione di promozione sociale non ha più le caratteristiche per essere un APS che è attrazione prevalentemente da parte dei propri volontari che cosa fa si trasforma in impresa sociale e principalmente in cooperativa sociale quindi muta sezione e finisce per appartenere per diventare cooperativa sociale quindi c'è quel dialogo tra i vari tra i vari tra le varie sezioni che non sono appunto compartimenti stagni ma dialogano tra di loro quindi il fatto di essere parte dell'insieme produce un movimento anche verso l'impresa sociale e verso le cooperative sociali da parte di che invece erano diciamo più orientati verso la componente volontaristica naturalmente può capitare anche l'inverso anche se è un po' più complicato che capi secondo riorganizzazioni aziendali l'impresa sociale può essere lo strumento che enti del terzo settore possono impiegare per diciamo dividere la propria attività tra un'attività puramente erogativa di raccolta fondi e un'attività commerciale quindi immaginate voi una fondazione o un'associazione che svolge in parte attività commerciale che è in crescita e in parte attività tradizionale di erogazione gratuita di beni e servizi di raccolta fondi di liberalità ed altro o continua a fare tutto insieme il che può essere in alcuni casi abbastanza complicato oppure può utilizzare lo strumento dell'impresa sociale per gemmare un'impresa sociale interamente controllata da essa in forma anche di SRL unipersonale avendo così mantenendo su di sé l'attività di raccolta fondi erogativa e attribuendo all'impresa sociale che ha costituito il compito di svolgere l'attività operativa di natura commerciale questo naturalmente può anche essere l'opposto un'impresa sociale che svolge attività commerciale o una cooperativa sociale potrebbero benissimo costituire un ente filantropico all'atere che si occupa di fare attività donative di raccolta fondi quindi vedete come l'insieme e le varie caselle possono tra loro perfettamente dialogare vi dico anche qui adesso chiudo come una fattispecie che si sta sempre più realizzando è quella dell'impresa sociale strumentale ad altre imprese sociali quindi una cooperativa sociale che fa una certa attività che all'improvviso ha l'occasione per il bene comune di poter gestire un'altra attività che non c'entra niente col suo core business chiamiamolo così con la sua attività tipica che fa da tanti anni può dire non mi interessa svolgere quell'attività che può essere rischiosa non rientra oppure può dire bene io mi mi accollo quell'attività pur di non lasciarla morire pur di svilupparla quell'attività altra diversa da quella che io faccio tipicamente ma invece di porla in capo a me la pongo in capo a una mia impresa sociale strumentale che ho creato ad hoc per lo svolgimento specifico di quell'attività quindi creo un ente un'altra impresa sociale strumentale a me fatta proprio per quello che svolge quel pezzetto di attività e questa non è teoria questa è realtà potrei fare tanti esempi insomma in uno studio che stiamo facendo con Tersus che emergerà che sarà pubblicato a luglio luglio-agosto troverete proprio anche per chi vuole leggere casi di studio effettivamente realizzati proprio in questa in questa direzione quindi attenzione così cerco di smontare pure quella tesi per cui non mi tocca tanto è che qui tutti sono un po' toccati dalla riforma bisogna però naturalmente anche non solo naturalmente narrar bene darsi da fare ma gli stessi enti devono cercare di capire come la riforma possa soddisfare le loro esigenze cioè essere curiosi in qualche modo e trovare e trovare nella riforma le opportunità per soddisfare le loro particolari esigenze gli strumenti sono molti di più ecco questo è indubitabile certo grazie grazie Antonio per questo approfondimento sul tema della social poi c'è un'altra domanda la pongo soprattutto a Luca una domanda un po' particolare diciamo che può essere variamente interpretata mettiamola così abbiamo un certo margine per poter rispondere a questa domanda perché è molto essenziale diciamo è molto essenziale dice sostanzialmente è possibile avere uno scadenziario dei prossimi addempimenti ora potremmo dire cosa succede da qui a fine mese piuttosto che cosa prevediamo entro la fine fare una cosa un po' tecnica diciamo però forse Luca mi permetto di dire potremmo prenderla anche un po' in senso lato diciamo e interpretare lo scadenziario anche come una serie di opportunità da accogliere o da generare in qualche modo rispetto allo stato di avanzamento della riforma cosa effettivamente si può fare per sensibilizzare promuoverla sia all'interno delle organizzazioni ma forse potremmo fare un ragionamento Luca anche nei confronti degli stakeholder esterni della riforma enti locali però soggetti privati imprese e quant'altro quindi prendere questa cosa dello scadenziario come una specie di come dire quasi piano strategico diciamo che in qualche modo coinvolge l'organizzazione ma anche i suoi interlocutori non so da questo punto di vista prendendola se vuoi anche in senso stretto ma anche in senso lato quali potrebbero essere ecco le scadenze le priorità gli step che in qualche modo un'organizzazione di terzo settore che prende il toro per le corna sostanzialmente e prende la riforma anche per sostenere il proprio di sviluppo ma anche quello del proprio territorio della propria comunità ecco cosa potrà avere di fronte diciamo in termini di opportunità anche nei prossimi nel prossimo periodo nel breve periodo scusami se mi sono permesso di formulare un po' la domanda come dire sul piano sul piano degli adempimenti degli adempimenti in concreto c'è come dire senz'altro come veniva ricordato poc'anzi come dire il 30 il 30 di giugno come termine per il deposito dei bilanci all'interno del registro del registro unico nazionale è in corso la fase di trasmigrazione automatica che riguarda ODV e APS dai vecchi registri al registro unico nazionale se non ricordo male però qui forse chiedo aiuto Antonio si dovrebbe chiudere a fine agosto 28 agosto diciamo la fase di al netto di deroghe di proroghe al netto di proroghe così scusate abbiamo risposto anche a un'altra domanda che abbiamo raccolto prima grazie al netto di proroghe che dovrebbe concludere questo primo grande massivo trasferimento di iscrizioni dai vecchi registri nuovi registri quindi dovrebbero essere in corso di arrivo gli eventuali rilievi del registro unico nazionale le richieste di chiarimento le richieste di adeguamento degli statuti per il completamento delle informazioni per il popolamento del registro unico del registro unico nazionale certo è che il duemila l'agosto proprio duemila e ventidue segna il primo quinquennio di entrata in vigore della riforma del del terzo settore quindi potremmo dire che la riforma inizia ad entrare in una fase di di maturità quindi io se potessi suggerire come dire un un scadenzario ecco al di là dei singoli dei singoli adempimenti che sono poi diversi insomma riguardano diverse dimensioni penso anche a tutto l'approfondamento il tema della trasparenza per gli enti del terzo settore che è un tema estremamente importante decisivo per la legittimazione degli enti del terzo settore e qui vorrei dire ricogliere questa dimensione del primo quinquennio proprio come momento per fare un tagliando alla propria alla propria organizzazione e verificare il modo in cui ecco in questi cinque anni che sono stati anche particolarmente complessi difficili la l'attività si è si è trasformata e valutare se effettivamente quella collocazione all'interno del registro unico nazionale che si è prescelta è effettivamente la più conforme rispetto al perseguimento di determinate attività di determinate finalità o determinate attività perché c'è almeno in questa prima fase una sorta di comprensibile ragionevole tendenza inerziale a rimanere diciamo con le qualifiche che originariamente diciamo erano possedute pre riforma con l'istituzione del registro unico con la costituzione della cosiddetta categoria residuale degli altri enti del terzo settore ecco io credo che davvero questo sia il momento in cui le organizzazioni si debbono debbono iniziare a fare a fare come dire ancora di più quello screening sulla sulla propria attività sapendo che c'è un elemento che almeno io ritengo ritengo importante e decisivo cioè che il registro unico è un fondamentale una fondamentale chiave di trasparenza e quindi l'accessibilità diretta ai dati alle informazioni agli elementi agli elementi organizzativi che riguardano l'ente l'ente del terzo settore da parte di tutti i soggetti portatori di interesse che sono la pubblica amministrazione che sono i privati che possono essere donatori ricordo la recente adozione delle linee guida per la raccolta fondi che sono i soggetti che le imprese for profit che possono guardare a partnership con i soggetti i soggetti privati che sono appunto le pubbliche amministrazioni diverse da quella del run che comunque sono interessate al rapporto con gli enti del terzo settore ecco io credo che il registro unico ad un occhio esperto riuscirà a raccontare alcuni elementi e a mettere anche in evidenza alcune come dire carenze o alcune scelte scelte non non errate che gli enti possano aver fatto ecco io suggerirei di sfruttare questo momento di finale assestamento dopo cinque anni in attesa appunto questo è uno degli elementi centrali su cui secondo me come dire la la politica l'amministrazione dovrebbero scedere con speditezza in attesa della conclusione del capitolo fiscale e della conclusione del rapporto con l'Unione Europea per la definizione delle misure a carattere fiscale ecco quella diciamo ora a distanza di cinque anni con l'istituzione del registro unico nazionale credo davvero che sia un tassello fondamentale che deve entrare in vigore il prima il prima possibile grazie grazie davvero direi che siamo no Cristina arrivati più o meno in fondo al nostro al nostro webinar mi sembra che anche il professor Ficci ci ha dovuto lasciare perché aveva un altro impegno si scusava vi salutava ringrazio anche la nostra community chiamiamola così il nostro pubblico perché c'è un intervento in particolare di Alessandro Fornari che ringrazio che ha fatto un intervento molto puntuale anche rispetto alla questione del deposito del bilancio nel RUNS per i soggetti non profi che stanno trasmigrando dentro RUNS sostanzialmente per cui lo ringrazio per questa si lui ci chiedeva chiedeva infatti di fare questa precisazione visto che l'aveva posta una domanda e risposte di porla pubblicamente sapendo che c'è appunto per ODB e APS una probabile appunto dell'azione nella registrazione insomma del del deposito del bilancio certo però ovviamente tutte queste specifiche le possiamo poi trovare chiaramente andando ad approfondire con altre in altre modalità a noi noi vogliamo ringraziare davvero tanto Luca Gauri e Antonio Fici per averci davvero con questo webinar dato l'inquadramento no su su un percorso che poi possiamo approfondire grazie ai loro videocorsi e quindi ritrovarci anche come organizzazioni metto dentro anche la fondazione ma trovarci tutti all'interno un po' di quello che è in questo nuovo quadro e quindi davvero vederne le potenzialità e vederne anche le prospettive rispetto poi alla nostra mission e anche alle trasformazioni che vorremmo portare in atto con la nostra organizzazione non so se Vivian hai qualche altro commento finale ringrazio a tutti per la partecipazione anche per gli spunti arrivati attraverso le domande e ovviamente era un'occasione per parlare a più voci di questo tema ma poi sono poi temi che devono essere eseguiti da approfondimenti anche per le situazioni puntuali in cui ciascuno si trova grazie anche da parte mia Luca Gori e Antonio Fici grazie 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 a Flaviano che ci conduce sempre al meglio anche se attraversiamo tematiche appunto complesse vastissime vi ricordiamo facendo anche io in realtà il percorso di Capacity Building capito in realtà io sono un fruitore di questa cosa quindi di te per cui ringrazio veramente voi per l'opportunità mi sto capacitando da solo è molto bello perché stiamo facendo anche noi stessi un percorso insieme e ci saranno comunque occasioni future di approfondimenti quindi vi do l'appuntamento al 12 di luglio è proprio l'ultimo dei nostri webinar riceverete comunicazione di dettaglio trovate già nella chat alcuni dei nomi ce ne saranno altri nomi che aggiungeremo alle voci che vedete qui scritte e quindi andiamo in piattaforma a visionare i videocorsi di Luca Gori e Antonio Fici e quelli che sono già appunto disponibili e ci rivediamo il 12 di luglio grazie a tutte e tutti buona serata grazie davvero a tutti voi grazie ciao Luca ciao a presto ciao a tutti